FUTURO Longa vita al festival, buona sorte! Per me è una fonte di ispirazione, soprattutto. Il mondo è grande. In molti locali che continuano crescendo. Il nome non è infinito, quindi infinitamente. Grazie mille! La mia expectativa già sta totalmente preenchida, con il successo del festival, casa cheia, sessioni lotate e il pubblico prestigiando, con i filmi. Quindi è meraviglioso, fabuloso. La mia esperienza che stai spingendo il festival all'interno di diversi paesi, che è un'idea abbastanza buona. Mi piaceva! Mi sono davvero impressionato! Sono davvero adorato il festival di film di Brasile e sono felice di venire ogni anno. Io sono franzo, sono davvero piaciuto da sorpresa. E devo dire che il cinema di Brasile è fantastico! È fantastico! È incredibile! È fantastico! È fantastico! È fantastico! Oscar Materiale! Ci sono un distribuatore e fondatore di film di tutto il mondo. E siamo qui per trovare nuovi film. e credo che questa partenza con il festival di film di Brasile è stato molto interessante per l'AFTA perché ci porta i film di film di Brasile e i film di Brasile e i film di Brasile, in particolare con il nostro evento, Il Marketplace che stiamo facendo, che è davvero concentrato su come i film di film di Brasile e i film di Brasile possono lavorare insieme. Perciò che sia il festival più completo in termini internazionale per guardare la filmografia del Brasile in un determinato momento. Questo tipo di cose è perfetto! Trage la cultura a la città e rende la città di New York un piatto migliore tutto il tempo. È, per me, la migliore plataforma che può trovare il Brasile in questo momento. È un grande, grande, grande sono molto impressionante di essere qui. È una confermazione del talento del cinema brasileiro encabezato per infinito. È bellissima! È tutto tipo! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie per arrivare! Ho spero di tornare pronto! Ho sentito molto orgulloso di essere parte attiva del festival che già fa parte del calendario di eventi di New York che è motivo di grande satisfazione per i Brasilei in generale. che dovessi al O Festival di Cilema sta movimentando per la prima volta il Pacifico della Bahia Gosto del cinema, Brasileiro! Circuito Infinito di festivari. E il rock. Grazie per la visione!